Quali sono gli aspetti tecnologici portanti in esami d'inglese.com? La base su cui si è impostato il progetto è stato l'abbinamento tra la web usability, cioè la facilità d'utilizzo degli strumenti tecnologici e l'alta qualità didattica dei materiali creati. I programmi di certificazione dell'esami d'inglese.com sono compatibili con tutti i dispositivi mobili e sono pertanto accessibili da qualsiasi postazione, ovunque ci si trovi. Inoltre la piattaforma permette di effettuare il download dei file multimediali, consentendo così la fruizione dei contenuti anche in assenza di una connessione di web.